Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono VivoLibero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzi, voi vedete qua tutto metragliato, ho fatto alcuni esperimenti, ho provato a fare alcune cosucce, vedete anche due casse qua. Allora, prima di tutto, andiamo un attimo qui, che vuoto tutto quello che ho dentro nell'inventario, perché, tanto questa è tutta roba che va qua dentro, perché poi vi spiegherò, questa la possiamo montare che non mi serve, e via questa. Ok, qua ci siamo. Allora, ragazzi, 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 andiamo, vi faccio vedere un attimino intanto come sono andato avanti nella nostra nuova base, che poi dovrebbe, se tutto va bene, dovrebbe essere quella definitiva. Sarà una base, spero di tutto rispetto, perché cercherò di fare qualcosa e faremo anche qualcosina di nuovo. Vi farò vedere una cosa, ho intenzione di non costruirla io, la base, ma utilizzare dei progetti che si trovano... Allora, qua potete vedere, qua ho messo queste luci, non sono tanto bellissime queste luci, eh. Allora, qua ho messo le porte, come potete vedere, ho messo qua la porta doppia, vedete? Qua andiamo nell'altra stazzetta dove c'è poi il deposito, dove poi andremo a mettere i mezzi. Qui andiamo fuori, come potete vedere qua dove c'è la conca, alla fine poi ho lasciato aperto, ragazzi. Qua devo ancora mettere l'acqua, eh, ragazzi, non guardate perché poi devo poi ancora mettere l'acqua. Allora, andiamo a vedere un attimino qui, vi faccio vedere, vedete? Ho messo le luci, le teniamo accese per adesso, non guardate le torce che poi le toglierò, ragazzi, perché intanto non ci servono. Perché comunque abbiamo la nostra luce qua, quindi va bene. Le ho messe anche di qua, come potete vedere, di qua ho provato a mettere anche queste sul pavimento. Non stanno malino, eh. Stanno abbastanza bene. Qua ho messo queste, e qui ho messo queste qua. Le ho messe forse anche di là, adesso non mi ricordo bene, ma credo di sì. Anche qua, ragazzi, poi preparerò per far entrare i mezzi che poi ci serviranno. Vi faccio vedere un attimo fuori. Vedete? Qua rimane in questa maniera. Purtroppo si vedono le lampade. Allora, io avevo l'intenzione, ragazzi, di buttare giù questa parte della montagna, praticamente. Non può buttarla giù tutta, buttare giù solo una parte, no? Dove praticamente, vedete, solo una parte. Ad esempio, tenere questo livello qua, ok? Praticamente tenere questo livello qua. Guardate, eh. Allora. Più o meno questo livello qua, credo, eh. Vediamo un attimino. Esatto. Dovrebbe essere questo il livello che bisognerebbe tenere. Adesso, un attimino, e vediamo, vediamo solo, facciamo così. No, esatto. Dobbiamo tenere questo di livello. Ok, dobbiamo tenere questo livello qua. Vedete? Sì, siamo giusti con quel livello lì. Ok? Adesso, non guardate qua, questo passaggio qua, ragazzi, ma... Eh, volevo tenere proprio questo livello qua. Ma, perché? Eh, allora, dobbiamo ritornare di là, mannaccia al cacchio. Non ho preso troppo in qua. C'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua, c'è l'acqua qua. Apriamo qua, andiamo dentro. No, qua c'è quello dell'elicottero. No? Perfetto. Mercoledì, anzi. Allora, 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 di qua. Ci sono i progetti. Progetti, ecco qua. Allora, progetti... No, non c'è qua. Allora, ci sarebbe questa, ma ragazzi, questa è una torre che a me non va bene, secondo me lì. Perché se la nostra base deve essere futuristica, non va bene. Allora, andiamo a vedere qua. Allora, la base che io voglio mettere, ce ne sono di tanti tipi. Questa è la torre, ragazzi... Ve la faccio vedere. Non me la fa vedere. È una torre, comunque, normalissima. Ci sarebbe questa. Ma questa, ragazzi, a me non piace. Vi faccio vedere. Cioè, non è che non piace, è bella, però... Non è quella che voglio io. Qua ci sono tante cose, ma dobbiamo andare qua. Nella libreria. La libreria abbiamo... Dov'è la base? Eccola... Eccola... Facciamo così. E abbiamo preso il nostro progetto. Ok? Se no, ci sarebbe anche questa di base, ragazzi. Ma questa non mi stiga più di tanto, vi dico la verità. Perché è troppo quadrata. Non mi piace. Allora... Abbiamo il progetto. Andiamo... Per dire... Allora, andiamo di nuovo là. Così vediamo un attimino, vi faccio vedere questa cosa. Non ho capito come far funzionare l'elicottero. Allora, dobbiamo andare fuori, prima di tutto. Quindi... No, ho sbagliato direzione. Ok. Molto bene. Allora, adesso, il progetto è questo qua. Vi faccio vedere. Se io lo mettessi qui... Vedete... Dove mi fa... La torre... Questa sarebbe acqua. Questa sarebbe acqua. E questa sarebbe una torre, ragazzi. Vedete com'è. E la base verrebbe fuori così. Vedete? Con le varie piattaforme... Vedete? È bellissima, eh. Solo... Che una cosa non riesco a capirla. Fatemi vedere... Un attimino una cosuccia. Perché? Non riesco a capire se è acqua quella lì. Perché se è acqua quella lì, ragazzi, non va bene. E mi sa che è acqua, eh. Fatemi vedere. Fatemi vedere... No. Sì, giusto. Dove è qui? Eccola qua. E mi sa che è l'acqua, ragazzi, questa. Questa è l'acqua. Cioè, e se io la mettessi... Aspettate un attimo. E se io la mettessi qua, da ste parti, guardate, eh. Per dire... Qua. Però non qui. La dovrei mettere qua. Fatemi vedere. Eh. No. Dovrei abbassare di uno. Dovrei abbassare tutto di uno, ragazzi. Dovrei abbassare tutto di uno. E questo non sarebbe male, eh. Perché guardate... Guardate come viene gigantesca. E questa sarebbe una gran bella base. Però... Vedete? Questa sarebbe una gran bella base. E qui ci sarebbe l'acqua, però... Ma se io facessi diversamente, un attimo, eh. Ragazzi, voglio provare... Le sto provando tutte, eh. Allora, se io mi girassi così... E lo mettessi... Per dire, giù di uno qua. Così. Eh. Ragazzi, non sarebbe mica male, però. La base qua... Vedete? Andrebbe... A essere... Eh. Non sarebbe male. Praticamente... Ci sarebbe l'acqua qua. Sì, è vero. Ci sarebbe l'acqua. Ma chi se ne frega. Si tolgono le porte giù. Ci rimarrebbe... Ecco, l'unico problema, ragazzi... E sarebbe questo qua. Mi butta l'acqua anche da ste parti. È gigantesca sta cosa. E non va bene. Non va bene. Non va bene. Questa... Andrebbe... Andrebbe me buttata da un'altra parte. Quindi... Nada. Ragazzi, non si può. Non si può. O... Tutto. Così. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro. Se no, andiamo a vedere... Eh... Delle altre... Delle altre cose. No. Questa io direi di no. Allora. Si potrebbe andare qua. Workshop. Ci mette 525 milioni di anni a caricare. Ragazzi, ma... Carica, carica. Tranquilli che carica. Così almeno guardiamo queste cose anche assieme. Eh... E qua ci sono tutte... Tutti i progetti... Fatti da altri... Che è possibile scaricare. Ok. Si scaricano gratuitamente. Ci sono anche le basi subacquee. Ok. Ci sono... Tutte queste... Vedete com'è la base che dicevo io. Eh... Ma ce ne sono... Tante, tante, tante ed altre. Allora, andiamo a vedere... Qua... Alla fine... Alla fine... Ci sono queste che non mi piacciono. Ok. Vediamo un po' Torri. Come potete vedere, ragazzi, c'è tanta di quella roba. Sono mille... Eh... Mille progetti, praticamente. Mille progetti. E quindi ce n'è un'infinità da andare a vedere. Eh... Ci sono anche, vedete... Delle... Delle mura. Ma le mura, queste qua, le ho già fatte. Quindi... Non... Non mi interessa più di tanto. Queste sono... Eh... Mobspawner... Eh... Ci sono... Eh... Altri tipi di mura... Eh... Case... Eh... Tante costruzioni. Queste sono tipo delle strade. Vedete... Ci sono le strade... Eh... Potete fare la strada per andare in giro. Eh... È bellissima questa cosa. Non sarebbe male collegare e poi andare in giro con dei mezzi. Però devo cercare di capire, ragazzi, come far funzionare i mezzi. Perché non... Non... Vi dico la verità. Ho provato in tutti i modi. Ho provato anche a guardare su internet. Ma purtroppo, ragazzi, non... Eh... Non ho trovato nulla. Nulla di nulla. Come potete vedere ce ne sono tante. Eh... Di basi, eccetera, eccetera. Eh... Adesso poi andrò io, magari, a cercare delle basi un po' particolari. Perché è un po' carina da mettere lì. Perché farla io, ragazzi, purtroppo non ho sbloccato tutti i blocchi. Ed è un po' un casino. Perché non avendo sbloccato tutti i blocchi, ce l'abbiamo veramente dura. Eh... Perché poi qua la nostra... E la... Questa base qua vorrei farla definitiva. Se ci riusciamo. Fare una base definitiva. Poi pian piano, ragazzi, costruiremo, eh. Costruiremo... Ci sono tante cose da poter fare insieme. Allora, ragazzi. Ci siamo, ci siamo. Eh... Purtroppo non ho trovato quello che poteva interessarmi. Eh... Però possiamo fare questa cosa. Eh... Allora, Bullix. Andiamo a vedere un attimino dov'è. Eh... La torre, quella là che è appena scaricato. Eh... No, qua non c'è. Andiamo qua. Allora, non è questa. Ma è questa. Che è praticamente simile, però... Eh... Però... Vedete? Una c'ha l'acqua. L'altra invece non ha l'acqua. Questa sarebbe questa qua. Guardate, eh. Allora, se io la prendessi e la mettessi... Eh... Mi appare lì. Però... Ragazzi, non c'è l'acqua, come potete vedere. Allora, se io la prendessi e la mettessi qui, dove vi avevo fatto vedere... Adesso andiamo un po' nel centro, ragazzi. Perché se no... Ok. La madonna. No. Allora, per fare una bella cosa, però, dovrei far così. Tirare via questa e metterla qua. E verrebbe giusta. Vedete? Verrebbe praticamente giusta. Io dovrei praticamente tirare via fino a dove arriva Lombardin. E, ragazzi, è un po' un po' problematica. Perché arrivo a qui. Guardate. Quindi... Cioè, io per dire, devo togliere tutto questo. Guardate. Quanta roba devo togliere dalla montagna. Cioè, non sono ancora arrivato in Cino, eh. Vedete? Manco. Devo andare ancora più giù. Cacchio. No, non va bene, allora. Devo alzarlo. Devo alzarlo di uno. Perché? Scusa, eh. Ma quanto è giù? Eh, no, di uno devo alzarlo. Allora era giusto come era prima. Così. Quindi, eh... Così. E poi... Così. Adesso vediamo. Esatto. Vedete? Di uno. Quindi, ragazzi, guardate quanto devo togliere. Non è male, eh. Per carità. Però... Pensavo venisse un po' più di C. E poi io potrei anche fare una cosa da genere, da pirla. Quanti blocchi sono qua? Vediamo un attimo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, unici, dodici, tredici. Tredici. Se noi lo prendiamo, ne andiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, unici, dodici, tredici. E lo mettiamo qua. No? Girata a potrare, però. Così. Eh, vedete? E non sarebbe male. Quando però subire in alta. Porca. Però così non sarebbe male. Tu vorrei, però, forse abbassarla di uno. Se io la abbassassi di uno, non sarebbe male. E se io la mettessi qui, ragazzi? Me la fa lì. Eh. Me la... ecco. Verrebbe praticamente giusta. Eh, giusto un paio di cazzi. Madonna se è alta, ragazzi. E' gigantesca sta cosa. Vedete? Eh... Adesso vi faccio vedere una cosa. Se io andassi qua, io la apro. E qui mi dice tutto quello che mi serve. Vedete? Tutto quello che mi serve. Eh... Diciamo che ho quasi tutto, ragazzi. Tranne queste lampade che ne devo fare. Però, abbiamo quasi tutto. Alcuni blocchi non li ho, ma li possiamo sbloccare. Non è un grosso problema. Poi. Qua mi dice, per prendere tutti i blocchi, ok? Da soli. In che ci vanno 19.000 blocchi, ragazzi. In che c'è un nostro proposito. 19.000 blocchi. Allora. Si, vanno a prendere tutti i blocchi. Possiamo farlo, eh. Perché forse li ho. Però dovrei avere 4... o 3. Auto build e jet kit. Io direi che quasi quasi auto build. Eh... Anche se non te li da tutti, mi sembra. Però auto build. Ce ne servono 4 di questi. Che però forse, ragazzi, io ce l'ho. Vedete? Adesso lui... Eh... Mi ha dato questa... Questa cosa. Vedete? Avete visto? Cioè mi dice quanta roba devo prendere. E poi io a mano... Lo devo fare. Se io gli mettessi, invece, il... JetTilt da solo, lo fa automaticamente. Vedete? Un raggio giallo che fa così. E incomincia ad andare su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. Fino che non l'ha fatto. Quindi... Vediamo. Vediamo un attimino adesso, ragazzi. Ok. Adesso. Vediamo di... No? Vediamo un attimino far. Ok. Oh, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ragazzi. Avete visto? E... Non so che cos'ha questo intorno, però, eh. Ok. Allora. Io direi, ragazzi, questo è di portarci allo caso. Venghi. Venghino, signori. Venghino. Venghino. E non mi segue. Venghino. 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 e mettiamo stay e ne abbiamo un altro qua perfetto ok adesso ragazzi si è fatto veramente buio quindi è difficilissimo dover andare a cercare delle cose quindi non so neanche io vi dico la verità non so neanche io come devo fare allora facciamo una cosa io adesso vi ho fatto questo video questo spezzone vi ho fatto vedere un po di cosuce anche i progetti come si fa ci vanno quei blocchetti lì che io li ho a casa altrimenti bisogna acquistarli ma all'inizio quando avviate il gioco ci sono delle casse che vi regala il gioco e ogni tanto raramente trovate qualche blocco di quelli lì quindi ne dovrei avere ancora a casa adesso ho fatto questa cosa questa cosa qua io poi voglio vedere di fare magari quella torre lì però non so dove farla mi dico la verità se farla qui o se farla da un'altra parte perché non lo so se no qua devo cercare qualcosa io e vediamo 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 un attimino vediamo un attimino quella sembra una torre abbastanza giusta e vediamo ok bene ragazzi io vi saluto qua come sempre un grosso bacione e un grosso abbraccio da vivo libero mi raccomando ragazzi condividete e tanti bei like sotto i miei video ok ragazzi bene io vi saluto ciao ci vediamo al prossimo gameplay